Musica 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 Nome Daniel Andrea Disciplina Contaminazione Musica 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 Che cosa pensi delle lezioni sui tacchi? Musica Che sono bellissime Che cosa pensi della contaminazione? Penso che sono bellissime La fantasia ragazzi Musica 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 che cosa pensi di andrea pacifici che cosa pensi di daniele vitale vorrei fare tipo quello che non sa cosa però ci ho pensato che è un grande ballerino e tanto talento no 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 no